L'ultimo dato certificato, quello fornito dalla TS di Milano, descrive un capoluogo assediato dal virus con l'indice RT schizzato a quota 1,34 nell'ultima settimana. Per intenderci, sopra l'1,25 si dovrebbe finire in zona rossa, anche se va ricordato come i parametri di valutazione della cabina di regia nazionale prendano in considerazione gli ultimi 15 giorni. Una situazione che ha spinto le istituzioni milanesi a impedire con ogni mezzo che le immagini dell'ultimo weekend di zona gialla, con la darsena trasformata in discoteca a cielo aperto, si possano ripetere. Anche il prossimo fine settimana dunque sarà mantenuto il dispositivo di sicurezza per l'area dei navigli con barriere di filtraggio e controllo agli accessi della zona. Una decisione presa dal Comitato sulla sicurezza riunitosi in prefettura nonostante i rischi per il prossimo fine settimana siano notevolmente ridotti dall'istituzione della zona arancione. La prefettura è però alla ricerca di una soluzione più strutturale per il futuro e per questo sarà avviato un percorso con gli esercenti della zona per predisporre un piano di contingentamenti delle presenze e di controlli da attivare quando, con il prossimo ritorno in zona gialla, riapriranno negozi e locali. Nel corso della prossima settimana, quindi, si aprirà un tavolo con i rappresentanti di Confcommercio e Confesercenti, oltre a Forze dell'Ordine, Vigili del Fuoco e Protezione Civile. L'obiettivo è quello di predisporre un piano operativo che per ora si applichi all'area dei Navigli per poi, eventualmente, allargarsi ad altre aree sensibili della città.